Allora cari amici, adesso farò il primo, la prima ranno integrale filmata e documentata di Adas. A questo mio padre che mi leva una ciga come al solito, Adas, è il tempo per un altro sangue, allora. Questi qua sono booms, dei doni che mi fanno il gay, questo è il simbolo di metra. Non funziona come ho avuto prima. Hmm, è caldo. Queste urne d'oro ci trovo ai soldini. Ogni volta che entro in una stanza viene anticipata la ricompensa. In questo caso è tenebra che mi serve per aumentare un po' delle caratteristiche quando torno alla base. Come torno alla base? Moremmo semplicemente. In questo caso ci sono alcuni diversi tipi di attacco. che non è stato nonostante. Questo è qualcosa. Che è quello che mi serve per aumentare. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Ma come torno alla base? E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. se posso più distanza no, il problema questi tasti qua sono trappoli questo è il cuore di centauro che mi aumenta di 25 la vita permanente quindi adesso sto a 105 e questo è un dono di Zeus ora la vita è importantissima i doni sono buoni però è importante arrivare alla fine che si ha parecchia vita do la precedenza a questo c'è un altro e sicuramente prenderlo che ha fatto un po' di più come ricompensa ci sono delle gemme che mi servono per acquistare tipo arredamenti alla dimora però mi si aperta anche la porta del caos ora scendere in questo luogo vuole un tributo di sangue per 21 punti per rita però ci vuole lo stesso perché in genere i doni di caos sono molto buoni lui cosa combina che lui la scelta di doni però ogni dono è prescritto da una tradizione per un pop di rama per esempio per quattro incontri ho visto quattro punti per rita ogni volta che attacca però se futura vivo in un stato speciale che sarebbe in montarmi con la punta dell'altra la questione è un po' troppo perché a partire la sicuramente ehm potrebbe anche essere andiamoli qua perché cerco di schivare di non scubire danni da nevi perché i due non scubbano the whims of master chaos quando c'è il che spesso vuol dire che i miei ci sono hanno l'armatura oppure io so che non scubbano una tecnica riducita allora facciamo il bò di metà il bò di progetti a dove sarà l'omani your free tortured souls trapped in a crystal thing olympus i accept this message Allora Questo è un buon effetto a non guandare Mi guarisco più del solito quando mi guarisco La chiave non mi serve in realtà Perché le chiavi servono per sbloccare le armi Adesso sto abbastanza avanti quindi l'ho già sblocato tutto Perciò utilizzo una mia abilità per alterare la ricomprenza Bene, bella mi serve Però ogni cosa che hai O che vorrei che posso scrivermi le chiavi Magari non lo usavo per le cose principali Però possono essere le tenebre sui mercati di scambio Le chiavi sono le chiavi che ti danno per la pagina E ogni cosa Tenebra Ok Tra l'altro sia le tenebre che le gemme me le sono potenziate In una fase più avanzata del gioco Ogni volta che ho fatto le cose delle lezende Ogni volta che ho fatto le tenebre La mia vita permanente è scesa di... Show yourself Show yourself My chaos boom evolved a new effect La mia maizia del caos è... si è stinta Adesso ho accesso al celodonio Perfettivo Oh, questo è Caronte da cui posso acquistare oggetti Che è molto buono Però questo qui è la ricompensa migliore che si possa trovare Il martello di Redalo Perchè il martello ti dà dei bonus all'arma per tutta la durata della range Perchè il martello ti dà dei bonus all'arma per tutta la durata del caos Perchè il 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 caos questo è ancora meglio ma sta più scherzante oh il melograno questo mi aumenta di un livello un boon un dono degli dei questo tipo di camera questo punto rosso vuol dire che devo improvvivere per per gli allai scendere non solo cosa fare ma anche in un'area quanta bisogna perché ogni l'unico c'è il cibo mi lascia per andare in un'altra parte 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 solo guarda in un'altra parte un po' di più di sanno, di paura o cose del genere. Denaro, melograno, andiamo per un altro melograno. Io non ti parlo mai perché in eccesso che ho scelto per oscolare i contei degli amici, ho proprio una penalità, questo ci faranno anche se non mi stanno in dubbio. Il potere dei Diovi, ho un po' di pezzi. Questo è il pozzo di Caronze. Da qui posso una piscata in parte. Questo è un bonus casuale. Che ho ricevuto? Una piscata scheletrica, sicuramente nella prossima camera c'è un'area di piscata. Sto messo bene con il solito, per andare da Caronze e probabilmente c'era anche lui il cuore. Però andiamo di qua che vado a colpare i soldi che non posso sempre tenere per Bob. Anche qua questa è l'area di pesca. Ma di tutti tutti mi servono una capa. Mi scambio, gli do il fuoco della dimora e lui mi da gemme, leonetta, leonetta, leonetta. Adesso qui c'è un boss, che è una delle furie. Tornati per Stephanie, magari. Oggi con tutto, cambio area. Le prime volte che giocherete a questo giochino morirete qui spesso. Se c'è qualcuno in tutto l'Underworld che ti ha oltre, Sagrius, è il tuo amico Sisyphus. Sì. 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 ... è sì 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 si Sono delle loro inaugurate Questi sono dei gettini che mi danno dei bonus quello che sono scelto è il primo incontro che faccio con la Dela Pena si è solo uno che si è molto grande che sto faccio con la Dela Pena a questo vento non augura ma Katharara non mi sono fatto è un forte è un giro ho a questo ho fatto bello è un giro potente essa è una città I can do this. I can do this. I can do this. I can do this. What now? I can do this. I can do this. I can do this. When there is a point of exclamation point, we say that it's not an event, but it's an abitant. But first, we're going to kill them. I can do this. I can do this. I can do this. I can do this. Who is going to clean all this up? Here we are. I'll hang on to these. They're both here. No bird in the world. No further tax to be paid. Atlas can rest his weary bones the weight of the world. Not much luck trying to teach Orfi to cook, ma può cantare bene grazie grazie tu di nuovo grazie 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 e posso invocare l'aiuto di Atena e lei mi difende per vende invulnerabile per qualche seconda It must be the last of them Oh, qui quando ci sono due simboli è il giudizio degli ideoli, che vuol dire che ho a disposizione è una scelta tra due divinità e i loro uomini, scelgo uno e l'altra si incazza, diventa dolore e a bocca dei nemici che mi attaccano con l'aiuto del loro divinità e siccome io comunque ho sempre l'oggetto per divantaggio dolore, scelgo lei per prima non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia per una scelta che hai fatto lì, sagrius come si cresce lunga in anni, potremmo potrai sapere un giudizio migliore di cui ti credo e di cui non ti rispetto mai, mai, non ti rispetto devo portare un giudizio migliore di cui chiude No Poi se finisco la sfida dopo si calma e mi prendo lo stesso Sono molto capace di rendere la tua vita molto difficoltà Adesso ti capisci, young Zagreus? L'esplosione Il primo è il primo, è il primo è l'esplosione Il primo è cattativo Il primo è il secondo Il primo è il secondo Il primo è il primo Thank you mate. Lady Dempter won't mind, will she? They're still have the old neck holding up Lady Dempter. Lady Dempter. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. That's all the heads. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bye, Asphodel. Let's slay some heroes then. Wow. Yeah. 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 There we go. We've got a ways to go yet, boss. Good news is, the slowest part of this particular trip is hereby over now. Oh. Good news. I'll see if there's an orange orange. No, I'm fine. Do I have green or... No, I can't do it. I'm not going to buy anything. So, I'll have to go. I'm sorry. Siamo arrivati. good enough to eat good enough Sì, sì, sì. Oh, che bello. Oh, Devito non mi piace. Oh, che bello. Oh, mi piace. Oh, mi piace. Oh, mi piace. Sì, adesso è un figlio... Sì, per scusa, se lo facciamo qui... ...dall'espalto... take a bite out of me there Can you hear me Dusa? I am a killer I can't be able to try I can fight a alliance living in a drew of war to other people I'm a killer I'm always a killer I'm a killer Oh, who's going to gang? There! Oh, questo mi piace. Sciogliere. Sciogliere le giame di sangue sono in realtà dei primi. Peace and quiet. That's a relief. Olympus, I accept this message. Questo è ottimo. Questo pure. Questo. La vita di stirato automatica è... Oh, martellone. Martellone. Come, wretches. Questo mi piace a sign. Questa è l'incontro finale per il boss. No, andiamo a prendere la cessione della vita. Sciogli, thank you for that. Ok. This is the boss. Di fine regione. Non ho preso il monotauro che... Come dicevo, infatti, guarda ogni toni che combattono insieme. Hysterious. Other guy. You are beneath the notice of the gods, monster. Whilst I have earned their favor. You are mine. Yott. Vivi. Here. Vii. Tu ti esi. E' becchazio. E' becchazio. E' becchazio. Grazie a tutti! 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 ! 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